La piccola Giada Che cosa c'era scritto signora in questa letterina? C'era scritto che praticamente la Befana volando volando doveva portare tanti dolcetti ai bimbi che sono negli ospedali, ecco si guariranno, è vero? Ecco questo. Giada sei contenta? Sì. E la Befana ti ha portato tanti regali? Sì. Che cosa ti ha portato? La casa di frate. Allora Rosario, siamo riusciti a trovare Giada e la COIJAS la vuole premiare per questa bella lettera che ha scritto. Allora come la premieremo? La premieremo con una casetta grande che è già stata consegnata, che si dovrà montare. Inoltre abbiamo due orologi offerti da Domenico Pennacchio, gioelleria, uno per Giada e uno per il fratellino che ha dieci anni. Bene, allora possiamo anche consegnare i regali. Grazie. Iacolare, facciamo però un punto due giorni dopo la festa della Befana che ha comunque avuto un grande successo, insomma un bilancio di questa prima festa della Befana. Credo che non possa essere che unanimemente detto che è un successo questa festa. È stata un'idea nata in associazione da alcune menti, diciamo, geniali che sono presenti nell'associazione. È un'associazione composta da grandi, medi e piccoli imprenditori, quindi è ben assortita. Voglio aggiungere che l'impegno di questi associati, oltre che economico, è anche proprio di tempo speso per queste cose. Cioè noi abbiamo associati che si arrampicano per attaccare le calze ai pali, per andare ad affiggere i manifesti. Insomma siamo attivi dal punto di vista pratico e anche economico e finanziario. In particolar modo volevamo ringraziare Don Vincenzo Apicelli che ci ha messo in disponibilità tutto ciò che erano le risorse della Chiesa di Piazza Annunziata e il priore Giovanni Antignano. Grazie a loro siamo riusciti, perché l'evento si è svolto direttamente in Piazza Annunziata e loro hanno permesso, con la loro collaborazione, che la riuscita fosse come è stata. Una bella riuscita, una serata piacevole, piena di gente e quant'altro.